Pioneer DJ Opus Squad, nell'ultimo video avevo fatto un video preview dove vi parlavo di quali erano le novità di questa console, di quello che dovevo introdurre e non avevo ancora però sotto mano la console, nel video di oggi invece facciamo la recensione completa perché ho la console qui davanti a me grazie a Pioneer e ne parliamo assieme, vediamo un attimo quello che effettivamente offre questa console avendola appunto sotto mano e vediamo ancora più nel dettaglio a chi la consiglio e a chi la sconsiglio Bentornati a tutti sul canale, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui finalmente con la Opus Squad fisicamente dico finalmente in realtà non è passato tanto tempo, dico finalmente una recensione con la console sotto mano visto che gli ultimi prodotti ne avevo soltanto parlato, quindi DJI M9 e Opus Squad tramite video ma non vi avevo fatto vedere effettivamente la console sotto mano sono contento di provarla questa console perché? perché seppur ok dal comunicato stampa avevo già capito quali erano i punti di forza di questo prodotto quello che offriva, ci sono molte cose che non sono scritte nel comunicato stampa che l'unico modo per provarle è effettivamente avercela sotto mano, smanettare un po' sulle impostazioni, queste cose qui quindi ho avuto modo di testarla un po' per appunto portarla in questa recensione e oggi ne parliamo assieme se questa recensione ti piace ti consiglio di iscriverti qui sotto al canale perché potresti trovare anche altre recensioni tutorial su altre console inoltre una scuola per DJ 128academy.com dove puoi imparare dalla A alla Z a mixare questo venerdì inoltre esce il mio corso 100% Rekordbox dove ti insegno dalla A alla Z anche come si utilizza il programma più completo per DJ sul mercato ad oggi. Detto questo parliamo della Opus Quad allora Pioneer DJ Opus Quad cos'è? È un sistema stand alone a 4 canali stand alone quindi il primo prodotto di Pioneer stand alone che non ha soltanto 4 canali nel mixer ma ha effettivamente 4 deck digitali se così possiamo chiamarli che possiamo utilizzare con la console in sistema stand alone quindi senza dover usare il computer come se fosse un controller quindi sicuramente questo è il punto di forza di questa console quello che la rende esclusiva attualmente visto che è l'unica console di Pioneer che permette di fare questa cosa lavora ovviamente con Rekordbox quindi con il programma di Pioneer ha il sistema operativo di Rekordbox per capirci quello dei CDJ3000 e della RX3 in realtà ci sono un po' di modifiche che andremo a vedere dopo scheda audio della console a 32 bit qualità ESS Technology quindi la stessa del DJI M9 quindi sicuramente una scheda audio di livello professionale non indispensabile magari per quelle situazioni piccole ma fondamentale per le situazioni professionali quindi club, discoteche, lounge bar insomma tutte le situazioni dove è richiesta una qualità del suono di un certo tipo altre caratteristiche da citare abbiamo tre schermi quello centrale di 10 pollici circa quindi uno schermo molto importante touch il design della console è sicuramente da citare visto che come vedete ha un taglio particolare qua nella zona diciamo inferiore verso il DJ e un'altra cosa sicuramente anche da notare è il profilo in questa sorta di finto legno non è effettivamente legno è una specie di plastica però diciamo che va a richiamare ricreare l'effetto legno che è lo stesso colore che viene richiamato anche da qualche manopola sopra la console uscita zone cosa ci permette di fare? ci permette di creare un flusso musicale separato da mandare in un'altra uscita proprio presente nella console quindi in quelle situazioni in cui stiamo suonando in una sala principale ma abbiamo magari una saletta d'entrata per arrivare alla nostra sala principale dove vogliamo della musica di sottofondo possiamo appunto utilizzare questa uscita zone per mandare della musica completamente separata da quella principale direttamente con la stessa console con appunto un'uscita dedicata ultima cosa molto importante da sapere è che questo sistema stand alone si differenzia un po' dalle altre oltre al design anche per la presenza di 8 hot cue come i CDG3000 a differenza degli altri sistemi stand alone di Pioneer che presentavano i pad quindi per avere hot cue sì ma anche altre funzioni sleep roll eccetera in questa console invece abbiamo 8 hot cue in alto quindi che non svolgono quelle altre funzioni che svolgevano gli altri pad oltre a quello gli hot cue hanno un feeling diverso quindi un click che non è lo stesso di avere dei pad quindi è proprio una filosofia diversa ultimissima cosa che ci tengo a dire subito è il prezzo il prezzo è molto sostanzioso perché è di 3299 euro quindi un prezzo che sicuramente dichiara questa console come un prodotto professionale dedicata ai professionisti non ai DJ casalinghi diciamo o a chi ha le prime armi ora detto questo per vedere come funziona ci concentriamo principalmente su una cosa di cosa sto parlando? sto parlando del sistema operativo di tutto quanto lo schermo il cuore pulsante della console come vogliamo chiamarlo insomma che è quello che effettivamente va a modificare completamente la filosofia dei sistemi standalone di Pioneer perché? perché è vero ci sono molte funzioni che non sono presenti sulla console fisicamente che una volta erano presenti nonostante questo se andiamo però nel sistema operativo queste funzioni ci sono e ce ne sono anche molte di più rispetto al solito quindi è stata proprio una filosofia diversa di trasportare via software molte funzioni e aggiungerne altre quindi vediamo brevemente come funziona la console cos'è che offre ma poi ci concentriamo su cosa offre in particolare il sistema operativo lato deck cosa abbiamo? beh abbiamo il tasto Q, il tasto Play, la nostra Jog che richiama parzialmente quella di una FLX6 per capirci con il disegno centrale che vedete qua anche se in realtà la qualità non è quella di una FLX6 è sicuramente superiore abbiamo il nostro Pitch Fader, Reset, il Master Tempo, il Tempo, il K-Sync per sincronizzare le chiavi le funzioni in desync, vabbè la Vinyl Mode, la Vinyl Speed da settare qua il Fill della Jog, i nostri 8 Hot Cue come vi dicevo in plastica abbiamo poi il Quantize per ogni deck che possiamo attivare e disattivare abbiamo poi qua sul Loop una cosa diversa dal solito perché abbiamo un selettore per l'Auto Loop in questo modo per andare ad aumentarlo e a ridurlo o i classici tasti invece in e out per il Loop qui sotto abbiamo il nostro Beat Jump per saltare nella traccia abbiamo poi il nostro Sleep Rep ovvero quando siamo in riproduzione se teniamo premuto la traccia va indietro ma nel momento in cui mogliamo riprende dal punto precedente come se fosse appunto nella Sleep Mode nella parte superiore troviamo delle novità sicuramente perché qua troviamo il volume dell'uscita Zone qua troviamo il volume dell'uscita Boot qui abbiamo il Track Search per muoverci nelle tracce e qua abbiamo il selettore del deck perché come vi ho detto è un sistema stand alone a 4 deck e quindi qua come vedete possiamo switchare di deck nel momento in cui noi selezioniamo o il deck 1 o il deck 3 ci va a cambiare sia su questo schermo sia sullo schermetto piccolino qua quello che vediamo effettivamente nel deck passiamo quindi poi a una novità ovvero avere tre schermi in questo schermetto abbiamo diverse informazioni come i BPM, il tempo rimanente la copertina dell'album, la waveform completa altre informazioni sul tempo, sulla chiave quindi abbiamo diverse informazioni utili per la nostra traccia che possono ottenerci utili se ad esempio noi andiamo qua nelle sorgenti nel frattempo continuiamo a vedere quello che succede nel deck ora vediamo nel mixer invece cosa abbiamo abbiamo il nostro crossfader come vedete senza nessuna selezione di curva del crossfader o l'assegnazione dei 4 fader perché appunto è via software selezione degli effetti abbiamo l'on off la profondità dell'effetto il tempo qui ancora il tempo dell'effetto il tap per prendere i BPM qua la selezione dell'effetto che come vedete viene fatta via software anche in questo caso girando qui abbiamo tutti gli effetti qua ovviamente abbiamo i nostri red meter equalizzazione a tre bande bassi, medi e alti trim per ogni canale sound color effect con 6 effetti disponibili qua abbiamo anche il parametro del sound color effect qui abbiamo la parte per il preascolto quindi con i nostri cue di preascolto volume cue master qui abbiamo per il microfono diversi controlli quindi abbiamo il livello equalizzazione a tre bande e abbiamo on off oltre il cover verso di me ho due ingressi per le cuffie da 3,5 e 6,3 un altro ingresso microfonico con sempre equalizzazione a tre bande tutti i controlli che abbiamo qui sopra dal punto di vista della connettività abbiamo la nostra uscita master sia in XLR bilanciata che sbilanciata in RCA la nostra uscita bilanciata come vi dicevo zone un'uscita anche se bilanciata in jack per il boot abbiamo poi degli ingressi sia line che fono per il canale 3 e canale 4 del mixer nella parte sinistra abbiamo la nostra porta ethernet per il link la nostra porta usb c per collegarlo al computer molto comodo e un'altra porta usb invece classica ora vediamo il sistema operativo beh come funziona vabbè lo schermo ovviamente touch qui abbiamo le nostre due waveform che possiamo cambiare qua come vedete con la selezione del deck se andiamo ad esempio qua sulle sorgenti dove abbiamo una lista di tutti i nostri dispositivi collegati possiamo rapidamente col tasto waveform tornare alla visualizzazione delle waveform ora torniamo qui da qui possiamo caricare i my settings come vedete o fare lo stop della chiavetta usb ovvero il tasto per estrarla semplicemente via software però qua abbiamo il bit effect questa è una cosa molto interessante perché selezionando ad esempio qua l'eco come vedete possiamo andare a modificare i parametri dell'eco tramite touch quindi possiamo spostandoci a sinistra a destra modificare il tempo su cui viene applicato l'eco come vedete e spostandoci dal basso verso l'alto e viceversa spostarci su un filtro passa alto o passa basso e applicare effettivamente l'eco quindi l'on off semplicemente toccando qua sullo schermo come si sceglie il canale su cui applicare l'effetto beh come vedete qua non c'è nessun tasto per farlo fisicamente si fa via software da qua quindi in questo modo come vedete o qua nel master posso scegliere su quale canale applicare l'effetto qua ovviamente anche il microfono andiamo qua sul browser come vedete qua posso muovermi all'interno della mia collezione come abbiamo sempre fatto quindi qua abbiamo appunto tutta la nostra collezione da scorrere quello che ci tengo a farvi vedere sono le impostazioni quindi teniamo premuto qua il tasto shortcut per andare sulle utility ok e come vedete qua arriva il bello qua abbiamo veramente molte impostazioni lato software quindi a parte qua su general abbiamo quelle classiche quindi ad esempio qua abbiamo la lingua ok qua abbiamo lo screensaver da attivare queste cose qua qua sul deck abbiamo altre impostazioni come vedete qui ad esempio il quantize, il vini speed adjust qui abbiamo la luminosità dell'anello della jog come vedete che possiamo anche spegnere in questo modo andando sul mixer abbiamo altre cose ancora ad esempio andiamo a vedere sulla curva del crossfader qua come vedete qua seleziono la curva di cui vi parlavo prima che non c'è nessun tasto fisico si può fare via software qui abbiamo invece la curva del fader e altre cose andiamo qua su audio output ok qua molto interessante possiamo attivare o modificare l'attenuatore sul master come vedete quindi ad esempio lo portiamo a 0db qua abbiamo il limiter da attivare e disattivare sul master molto interessante interessante andare qua su network perché perché qua abbiamo il wifi su questa console è integrato il wifi che ci permette di utilizzare il cloud direct play di record box quindi se abbiamo le nostre tracce all'interno di dropbox possiamo riprodurle tramite wifi collegando la console appunto al wifi riprodurre queste canzoni come se fossero in streaming diciamo dalla nostra collezione privata su cloud bluetooth abbiamo le impostazioni del bluetooth perché come vedete possiamo fare il pairing quindi collegare con il nostro telefono la console tramite bluetooth c'è anche questa connessione che ci permette di scegliere un canale dove mandare della musica separatamente dopo vi faccio vedere anche come si fa quindi come vedete ci sono diverse cose che possiamo fare via software e non sono ancora finite perché ad esempio qua possiamo selezionare come vedete se assegnare oppure no il crossfader quindi ad esempio io lo voglio sulla A per questi due e sulla B per questi due quindi così il crossfader l'abbiamo automaticamente assegnato altra cosa possiamo selezionare la sorgente quindi andando su deck 3 perché deck 1 e deck 2 sono dedicati a internamente sistema operativo ma ad esempio qua su deck 3 possiamo scegliere line, phono quindi selezioniamo se colleghiamo un piatto o ad esempio un cdj dall'ingresso che c'è sulla console o il bluetooth quindi qua seleziono bluetooth in questo momento il mio telefono è scollegato però se io mandassi riproduzione della musica dal mio telefono quando è collegata la console col telefono da qui sul mixer avremmo il segnale già pronto qua posso cambiare e rimettere il deck 3 per avere il deck virtuale andiamo qua ci sono altre cose qua ci sono le informazioni della traccia qui possiamo andare a modificare la nostra chiave queste non erano neanche tutte le funzioni che ci sono su questo sistema operativo di questa opus quad quindi ci tenevo a tenervi una buona parte del video al di là per parlare dei pro e contro di questa console e queste cose qua per farvi vedere questo sistema operativo perché non voglio dire che giustifica per forza il prezzo della console ma sicuramente aumenta il valore di questo prodotto cioè se fisicamente possiamo pensare che una XZ offre di più quando andiamo via software ritroviamo molte cose che fisicamente non ci sono e che quindi pensavamo magari che non esistesse nessun controllo per quella determinata funzione ok non voglio che voi pensiate ad esempio che non si può cambiare il crossfader la curva perché non c'è un tasto perché appunto via software si può fare ora pro e contro la prima cosa è il design pro o contro design beh il design secondo me è una cosa molto soggettiva quindi chi mi dice il design fa schifo o il design è bellissimo secondo me sbaglia in entrambi i casi il design può piacere come non può piacere sicuramente parliamo di un prodotto che ha sfidato un po' il mercato visto che ha delle linee un po' diverse che non c'entrano molto con le linee magari degli altri prodotti di Pioneer quindi sicuramente almeno faccio i complimenti a Pioneer per averci provato poi se piaccia oppure no è semplicemente questione di gusto potete dirmi al massimo a me piace a me non piace ok molte funzioni sono state spostate come abbiamo detto da fisico a virtuale a digitale pro o contro secondo me dipende ci sono certe funzioni che è bene tenere sempre fisiche e non spostarle lato software mentre altre funzioni torna comodo averle lato software nonostante questo però riconosco il perché Pioneer sta facendo questa cosa sta facendo questa cosa in relazione a Rekordbox perché? perché Rekordbox è un software che come ho spiegato nel mio corso che appunto esce questo venerdì dà la possibilità di scegliere quali impostazioni avere sulla console direttamente dal programma quindi direttamente da Rekordbox quando esportiamo la nostra chiavetta USB con la collezione esportiamo anche le impostazioni per la console nel corso spiego come si fa effettivamente questa cosa capirete il fatto che torna molto comodo avere tutto lato software perché tutte queste cose le impostiamo dal nostro computer quando ci colleghiamo alla console è già tutto settato che invece se ci fossero tanti tasti fisici sarebbe più un problema fare questa cosa di esportare le impostazioni quindi capisco per quale motivo si è presa questa direzione altre cose che vi dico io che sono dei pro sicuramente il bluetooth la connessione wifi i 4 deck stand alone contro che vi dico di questa console beh ci sono certe cose che non mi piace come sono state costruite la scelta di certi materiali per certi componenti perché secondo me va in contrasto con altri componenti cioè vi faccio un esempio gli hot cue come sentite sono dei tasti di plastica che non mi restituiscono un bel feeling che può starci sono dei tasti tipo una xdjrr come feeling che però è un prodotto più economico però ad esempio abbiamo una scocca in metallo che è molto bella invece poi nel design unica cosa che non mi piace è che non c'è nessuna scritta pioneer in questa parte superiore qua della console capisco che ovviamente è un prodotto di design che si sta cercando la situazione in cui bisogna essere un po' più eleganti anche nella console abbiamo qua sullo schermo la scritta pioneer dj però insomma una via di mezzo mi sarebbe piaciuta insomma una piccola scritta pioneer ecco perché vista così mi sembra un prodotto un po' anonimo al di là del design che ovviamente quello non è anonimo ora a chi la consiglio e a chi non la consiglio beh sicuramente la consiglio a chi cerca una console da lasciare fissa in un locale in un bar in un ristorante insomma in tutte quelle situazioni in cui non è richiesto uno standard da club quindi djm a9 e cdj 3000 o djm v10 che magari è soltanto un lounge bar una situazione del genere insomma dove c'è la gente che magari un po' balla un po' mette musica di sottofondo però comunque ci sono dei dj che vanno e vengono allora questa console può essere una buona scelta per risparmiare budget sicuramente rispetto a comprare i tre pezzi separati ma allo stesso tempo avere comunque tantissime funzioni che tornano utili ad esempio anche l'uscita zone può tornare utile per avere due diffusioni di musica separate all'interno appunto di un lounge bar la consiglio anche sicuramente a chi fa eventi privati da portare in giro oppure no valutate voi diciamo che visto il prodotto che è appunto di design non è il top da tenere dentro flight case quindi se state pensando di comprare un flight case magari moddarlo con anche la centralina del microfono altri processori di segnale esterni ecco quello eviterei perché già la console è abbastanza ingombrante di sua abbastanza alta ha un design che comunque se la comprate quindi penso vi piaccia è utile farlo vedere piuttosto che nasconderla in un flight case con altre cose quindi se dovete portarle in giro fatelo ok tenete in considerazione l'unica cosa appunto che andrebbe tenuta secondo me fuori dal flight case sopra un tavolo un bel tavolo magari con pochi cavi in mezzo quindi una situazione molto pulita non con tanti cavi sopra il tavolo questa poi è la mia opinione poi quello che conta è la musica lo dico soltanto perché spendendo appunto questa cifra comunque molto importante sarebbe anche interessante sfruttare al 100% quello per cui questa console è stata progettata per il video di oggi è tutto spero sia tornato utile a qualcuno di voi nel capire un po' meglio questo prodotto capire se è interessante oppure no capire quello che offre rapporto qualità prezzo e niente noi ci vediamo prossimamente con nuovissimi altri contenuti qui da Federico è tutto